Cucina al cristal Sì, sono qua, sono qui, in questo meraviglioso supermercato Cosa? E certo, qua i prodotti sono fantastici, a parte che sono tutti freschi e buonissimi Come? La lista? Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, l'ho portata Ti ringrazio come sempre, vado subito a leggerla, eh? Come signora? No, non c'è Cristela, no, Cristela è dall'altra parte, no, era una signora, una tua fan Ormai abbiamo le fan, va bene, leggo, dai, fammi leggere Allora, farina 00, burro, zucchero, lievito, vanillina e pinoli Cosa sarà? Cosa sarà poi pinoli? Va bene, le sei tutte tu, guarda, io non posso dire niente anche perché non la so, non la so la ricetta Vado a fare la spesa, ok, vado Buon differently liste givengermosti Grazie a tutti.